Dirvi che ho il cuore spezzato per la nostra dipartita sulla serie Minecraft Hardcore 4.1 è dir poco In realtà, non so se si è capito, ma anche se noi moriamo, la serie è sempre la stessa L'obiettivo è quello di divertirci e di provare ad andare sempre più avanti, sempre più avanti, anche crepando Ma secondo me, quello che è successo la scorsa volta, a me mi sa tanto di script, ma io non ho mai visto una roba del genere DJ Cromo, se metti 4 blocchi di artesia profonda nella graffin table, ti escono i mattoni di roccia, crezza, che sono molto più belli Grazie E Carm, bello, un episodio lungo per essere lungo Bello, un episodio lungo per essere lungo Ah ok, ho capito, se ho di fa lungo, che lungo sia No no, facciamo lungo, non vi preoccupate Giocatore singolo Questa, ragazzi, si può eliminare E si crea un nuovo mondo Hardcore 4.2 Modalità sopravvivenza, modalità estrema E la cosa bella è questa, secondo me Poi non so voi che cosa ne pensate, perché volendo potremmo anche mettere la sopravvivenza, eh Cioè non è un problema Però per il momento giochiamocela in estrema Che stai molto più tirato ed è molto più difficile, secondo me Ma io aspetto i vostri commenti Raga Secondo me l'ultima volta non ci meritavamo E porco ciuta, sì Che botte di culo giganti Mamma mia Sub di villager, madonna Arriva il predatore del tempo Cioè che sono io Porco zio Vi mangio anche vostra sorella Vedete qua Le zucche non sono male, eh Le zucche da prendere, secondo me Non sono affatto male Ma semplicemente perché Con queste Ci facciamo Un pochino Di semini E possiamo andare a piantare le altre cose Allora No, no, niente Ah, fai finta che questa sia una rapina, ragazzi Cioè in questo momento io vi sto rapinando Non c'è neanche più Raga Scusate No, no, ma Fa quello che Non è Bello il letto bianco Fate quello che volete Però mi sembra una mucchiata Un po', un po', un po' Eh Ok Va bene No, no, ma l'importante è che Nessuno rompa Sì, sì Belle le ciotole d'acqua Abbiamo Sicuramente Bisogno Eh Gatto Gazz Andiamoci a prendere questo Che sapete Esserci Tremendamente utile Per il momento ancora Non abbiamo trovato niente Di interessante In questo villaggio Andiamocene Qua sotto Io non Io me voglio solo immaginare I vostri commenti, regà Perché secondo me Mi faranno Morire dalle risate Sullo scorso episodio All'altro Ora devo Anche star nutire Va bene Allora questa è abbastanza grande Io spero di trovare qualcosa di buono Non ho trovato Non diventa niente Ma guarda Ti devo dire Che sinceramente io Dessa roba Non me ne prevo Mai Andiamo qua Non c'è niente Lui sta coltivando Lì c'è un Un golem Di elisir Ciao bellezza Che lui pure Ti sciotta Tipo malissimo E andiamo Qua sopra Non è che abbiamo trovato Per il momento Niente Che belli Questi fiori Abbiamo trovato Questa torcia Sarebbe quasi Da anch'ia A pertartela Devo fare per forza Così Perché non c'è Una vera e propria Scala In questo momento Quindi Tutto quello che Una mucca Incastrata qua Non me ne privo Mai Non me ne privo Mai Io non ti ho toccato Sappilo questo Le casse in questo villaggio Sono un po' Mancanti Se vede Io Continuo a prendermi Tutto quello che posso Raga Perché Dobbiamo sopravvivere A me mi dispiace Ma Sapete che c'è Di giocare off camera A me non mi sembra corretto C'è nel senso Qua c'è la porta aperta Io potrei anche giocare Uh Questi sono buoni Potrei anche giocare Off camera No Ma che senso Ci avrebbe Giocare off camera Non 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 c'ha senso Anche perché L'avete visto La partita di prima Raga siamo stati Scammati Male 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 O sbaglio Mi sembra che siamo stati Scammati malissimo Qua Praticamente Non ho trovato Niente Mi devo mettere A farmare Di nuovo Roba 280 Mila Cavalli Secondo me Comunque Ti da una mano Il gioco Adesso A farti Sponare Vicino ai Villaggi Sapete C'ho Questo Presentimento Qua No Raga Comunque Quanto Mi stanno Dendo Il culo Per la partita Di prima Voi Non avete Idea Un po' Scomodo Comunque Qua sopra Io Te lo voglio Dire Ciao Bello Un po' Scomodo Eh Io Sicuramente Scendo Da qua Sto cercando Di fare Il più Velocemente Possibile Sicuramente Ve ne siete Accorti Inutile Fermarci Qua Io Andrei All'avventura Anche perché Ci servono Gli Alberelli Che qua Non mi Sembra Che ce ne Siano Una quantità Spropositata Ecco Fatto L'allero Fai calmo Fai calmo Ok Ce ne andiamo Qua Il rame Comunque Si trova Anche In posti Non così Apocalittici Diciamoci La verità Il letto Ce l'abbiamo Mi serve Dobbiamo Muoverci Ragazzi Ci dobbiamo Muovere Tanto Al limite Possiamo Fare Anche Dei video Un pochino Più Lunghi Tanto Esplorare Dobbiamo Esplorare Madonna Mi ero Fatto Tutta Quella Bellissima Casa Avevamo Fatto Tutta Quella Robba La Tutto Sprecato Che cos'è Quello A me Non mi Sembra Una Cosa Ma Pensa C'è Un Altro Villaggio Double Villaggio Che poi In realtà Ci sta Quindi Sono Due Cittatelle Molto Andiamo a prendere Un po' Di Di risorse Vedi Questo è più carino Per esempio Come Proprio come Messo il villaggio No È molto più bello Poi ci abbiamo Pensa se c'era un fosso E sarei schiattato Malissimo C'è posta Perché infatti Avevo visto Delle strutture Che Non erano proprio No Cioè Normali Guarda questi Come se sono dati da fare Hanno fatti i punti Hanno fatti le cose Che storia fantastica E dove trovarla Vedi i vasi Sono molto belli Eh Mappa vuota Ok Ok Anche la bussola Che non è Propriamente male Quindi facciamo così Regà io sto Senza Come si dice Nalira Cioè praticamente Senza Nalira Aia Ma c'era bisogno Di farti male No Ok Ci sono dei cavalli Nerissimi Andiamo qua Cuoio Cuoio Sì Cuoio Non è male 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 Ci possiamo fare Delle cosette Un po' Vedi che c'è Stanno i vetri colorati Mi scusi Madonna Lei chi è Il gran sacerdote Il gran sacerdote Mi può dare un botto Di cuoio Lui Oh questo Questo sì Che è un villaggio Con la V Maiuscola Minuscola Discuscola Però Regà mi dovreste dare Secondo me Un piccone Di diamante Cioè me lo merito Sì sì Regà è veramente È veramente enorme Veramente gigante Forse è uno dei più grandi Che io abbia mai visto Regà Uno dei più grandi Che io abbia mai visto Che cos'è questa Una Una sega circolare Incredibile Sarà uno dei più grandi Che ho mai visto Ma non è che c'è Tutta sta roba Cioè nel senso Regà Le casse Ce le potevate pure mettere Quindi che fanno qua Quindi c'è Sta niente Un gacchio Un gacchio Eh regà Eh vabbè Mettete un'altra Motosega Fate un po' come vi pare Perché non glielo voglio Toccare il villaggio Perché è molto bello Molto molto bello Però Poi tra l'altro Spero di essere Grazie Questo mi serviva proprio Dotto Questi fanno Le pozioni Fanno le cose strane Vedi questi Sa parlano Sa squad Che carino Che sei Dov'è mamma Che gli vado a rubare Il portafoglio Eh vabbè Regà Casse Veramente Poche Casse Veramente Poche Dove trovarle Non le troviamo Perché niente Eh Utilità Praticamente Zero Utilità 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 Va bene Quindi In realtà Ci dobbiamo muovere ancora Io vedo un botto di roba rossa Lì regà Però non so Se sono funghi Perché ci stanno Anche i funghi Per fare le zuppe No Madonna Ragà Io vi ripeto Io sarei troppo curioso Di sapere voi Che cosa ne pensate Di quello che è successo Sono troppo Troppo Curioso Ragà Adesso Adesso Parte Ma no È bellissimo Dai Mi devo prendere un po' di legno Dai incominciamo Ok Allora Dato che sta Quasi per fare notte E qui dobbiamo fare molto Attenzione Io questa Me la riprendo Al volo Posso dormire Posso dormire Sì Dormiamo In mezzo I fiori In mezzo Le cose Ragà Mannaccia Quella Riprendiamoci Questa Ci andiamo A sistemare Un secondo e mezzo Il nostro inventario E in realtà Adesso Noi che cosa Dovremmo fare Dovremmo cercare Velocemente Una 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 caverna Ok Caverna Possibilmente Trovata Quindi Da qua Parte di nuovo Uno Due Tre Perfetto Fante Cavallo E re Vado qui Faccio così E mi prendo Il primo piccone Ho trovato anche Un bel filone Non di pane Ma di Questo Di carbone Che sapete che io Ne vado ghiotto Su minecraft Così possiamo farci Le torce Per andare a vedere Qua sotto Se tante volte Troviamo del ferro Porco giuta Altro che ferro Raga Altro che ferro Raga No Eh no Eh no Eh no Eh no 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 Eh adesso No Questo si chiama Bullismo Eh questo è Chiaramente Bullismo Verso I nostri Confronti A me sta roba Non mi sta bene Non ho neanche Una spada Guardate Sta Mi sta Camperando Lì Tacci Teteo Stai fermo Un attimo Stai fermo Un attimo Fermo Un attimo Perché io Raga Io mi devo Liberare La zona No No C C Tete C C Teteo C Teteo Eh ma qua O è me o lui Raga Magno una patata Me frega A me Ando come se La Ma 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 Da il bro Come Come se La campera 1v1 Bastardo Oh Aia Aia Ma è troppo forte Troppo forte Raga Cioè ma è pazzo Questo Dove sei Scemo Deve Io non riesco Neanche a colpirti Non mi puoi Fare quello che vuoi Eh Ok via Facciamo così Ma quanto sei forte Raga Dobbiamo lasciare Davvero Quella parte La Dai Però È troppo forte Non ce la farò Mai Non ce la farò Mai Come faccio Cioè o faccio Tipo una roba Del genere Per attaccarlo Dov'è Mortacci Deti Raga Questa è Ok Ok Vieni qua Ah Ha saltato Ha saltato L'avete visto tutti Eh Con calma Ok Del tipo Sono sicuro che se mi fa Headshot Mi spacca male Facciamo così Adesso facciamo qua Ah Cattro Trogliona Oh C'era Guarda M'ero Incaponito Raga Cioè M'ero Veramente M'ero Veramente Incaponito Sicuramente Cioè Lo sapete Come sono fatto Io Raga Cioè Lo sapete Come sono fatto Io Ok 25 Pani E neanche Gesù Cristo Ce ne aveva così tanti Via Vieni qua Ok Ah Quello che è nostro È nostro Quello che è suo È suo Non mi rompesse I oglioni Va bene Non mi rompe I oglioni Questa è stata bella Questa mi è piaciuto Sto combattimento Io lo so Lo so che l'applauso È scattato Me ne rendo conto Raga O se arriva un creeper Però Diventa davvero divertente Perché io sento Comunque Io comunque Sento roba Quindi questo Questo Prendo 20 torce Io sento Camminare E quello È il problema Neanche così Tanto Neanche così Tanto Chi è? Ho sentito Un uovo È qualcuno Che si è cagato Adosso? Quando mi vede qua Eh Che la mia curiosità Eh raga Ma un altro Un altro teschio Io non gliela faccio A farlo Eh raga Ma un altro teschio Come faccio? Uh questo Questo ci ha pure incantato Questo ci ha pure incantato C'è questo cazzo C'è questo cazzo C'è questo cazzo L'arco incantato De Gesù Non gliela posso fare Il problema qual è Il problema qual è Che adesso io devo lasciare comunque La grotta Perché regà no l'arco incantato Proprio non gliela posso fare Ok pieno di Sono le cose che fanno sto rumore Mamma mia Come faccio non c'ho niente Cioè posso farmi il cuoio Ma regà ma il cuoio è Boh Eh certo io quando me incaponisco però Come faccio a lasciare quella cosa Regà io sono troppo incaponito lo sapete A me come cosa Mi dà fastidio Perché pure ammazzare i maiali Ma che cosa mi porterebbe A uccidere questi maialini Regà no Ormai è fra me e lui Cioè fra me e lui non esiste Non esiste Allora guarda al limite che posso fare Con Con tre di cuoio Non posso fare niente Con tre di cuoio Che faccio Neanche i gambari Non mi posso fare niente Mannaggia a me Ma tu sei sicuro Mirché Che tu vuoi fare sta storia Perché io tanto Me conosco Me conosco Regà Me conosco Mortacci De te mortacci Mi tocca rifà tutto Bene Nuova partita Nuova corsa Stiamo facendo Stiamo facendo un po' Di robetta Quindi ci facciamo Il piccone Di ferro Ci facciamo Questo Ci andiamo a mettere Questo E ci andiamo a cucinare Un po' Di bistecche Allora Sto cercando Di fare Del mio meglio In che senso Cercare di non rimorire Possibilmente da un'altra volta Da uno scheletro Devo dire che poi Quando uno comincia Ad avere fretta Di fare le cose È il momento In cui uno sbaglia Non c'è niente da fare Io adesso Dobbiamo cercare Allora L'obiettivo è uguale a quello di prima Trovare del ferro Ragazzi Perché Dobbiamo Ovviamente Ritornare Un po' A quello che avevamo fatto prima Anche è vero che la spedizione Che avevamo fatto Nell'altra Due puntate fa Se non erro È stata veramente Incredibile Perché qui Un po' Di robetta c'è Ma non vi credete Che ci sia tutta sta roba Ragazzi Cioè non vi credete E tra l'altro Qui sono spawnato Ma non c'è Traccia Di villager Cioè proprio Non c'è traccia Di villager Quindi andiamo a mangiare Un po' Di proteine Che in questo momento Ci fanno stra bene Ne dobbiamo cucinare Ancora un po' Allora nel mentre Sapete che facciamo Facciamo così Ci andiamo a fare Un'accetta In ferro E nel mentre qua Si cucinano le bistecche Io procederei A prendere Un poco di legno Tanto tra l'altro Calcolate che so Che i video di minecraft Vi piacciono Io man mano Mi rendo conto Che sto rifacendo Sempre le stesse cose Perché più o meno Quello che farete anche voi No? Più o meno Sto diventando sempre Più veloce E più bravo Ma proprio a fare Un po' tutto Porco due La prossima volta Nelle cavolo di cose Cammino tipo testugine Non sto scherzando Regà Non sto scherzando Cammino tipo testugine Qua posso morirci In qualsiasi momento Ma siamo un attimo calmi Quindi Andiamoci a prendere Sempre il nostro lignetto Che ci serve tantissimo E finiamo di cucinare La roba Allora Ci siamo Dai Sempre con calma Regà Anzi Il letto Siamo riusciti a farlo Grazie Al nostro Ingegno Al nostro Ingegno Perché qua sotto Regà La roba Ci sta E io mi ci devo Tra virgolette Fiondare Allora Andiamo qui sotto E vediamo insieme Se è una roba Fattibile Oppure No Molto bene No Non è una Non è una situazione Che ci può piacere Intanto mi prendo un po' di questo Il carto sapete che c'è Questo mi sembra Semplicemente un Crepaccio gigante E dove Trovarlo Se non erro No Quindi Noi con grande Calma Regà Qua Chi non risica Non risica Come dicevano No Sì Ma qua Sicuramente c'è schiatto Male Io sto cercando Del ferro Ve lo dico Ve lo ripeto Quante volte volete E ho sempre Solo del ferro Sto cercando Che ovviamente Non mi sembra Che stiamo trovando Non mi sembra Fatemi dormire Fatemi Fatemi dormire Non mi interessa Mi sto prendendo anche I miei rischi In questo momento A fare certe A fare certe giocate Me ne rendo Assolutamente Conto Cioè potrei schiattare In qualsiasi momento E me ne rendo Sempre più conto Anche perché qui Tutto è Tranne che comodo Mamma mia Regà Ah dai Ma non può essere Vero una roba del genere Regà Cioè ma qua c'è schiatto Uh ferro Uh zombie Uh qualsiasi cosa Non mi può prendere Lo zombie qua Parliamoci chiaro O no Anche se mi sembra Proprio molto molto vicino Mmm Sta proprio qua Altro che Ah proprio qua Ah sta là Ok Eh peccato Perché non è il bioma Dell'altra volta Capito Quindi capirai Ho preso due Regà Ho preso due Cioè regà Una schifezza Una schifezza Regà Io Mo Me la invento E vediamo un attimo Che succede Ma Mamma mia Ragazzi Questa è la mia Morte di nuovo Ferro Sicuramente Peccato Perché quel bioma Che avevamo trovato Era così bello Regà Bellissimo Ok ho trovato Una piccola Cava Di ferro Che sinceramente Io non me ne privo mai Allora Però Fatto questo Veloce Veloce Ah no Questo è vero Non posso farla Prima devo piazzare Allora nel mentre qua Stiamo cucinando Del fantastico Ferro Io questo Mi prendo questo Faccio così E qui ho fermato Volutamente Dell'acqua Così Così da non farmi rompere Più I cabazzizi E mi vado A prendere Un blocco Di ferro Ah va bene Regà non capisco Perché in questa grotta Non ci siano Mob Oltre agli zombie Anche è vero che non c'è neanche il ferro Quindi non è che me posso tanto preoccupare Ok se alla nostra domanda Se ci sono zombie Sì Ci sono zombie E uno mi sta venendo addosso Ma calcolando che non ho veramente niente Ce ne torniamo Indietro Dove ci sono le nostre torce E qui Se non erro Qua davanti Abbiamo la nostra stazione Di rifornimento Quindi andiamo a rimettere altro ferro E andiamo a rimettere altro ferro Ci prendiamo Quel poco ferro che ci abbiamo E Incomincerei A fare un paio Di cose Interessanti Quindi Questa qui Ci depositiamo Tutta la roba Che attualmente Non ci interessa Che non è così tanta Non è così tanta Quindi Vai Allora Ho rifatto Tutta La roba In ferro L'ho rifatta Praticamente Tutta Quella che Che avevo modo di fare Quindi Andiamo a farci Il metto Ci andiamo a fare Gli stivali L'armatura No Non era così Ma era così Ah questi Sono i pantaloni Butta via Che mi sono ricordato Come se facevano i pantaloni Quindi Questo 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 Invece Non mi ricordo Questo qua No Questo ok Però non ho Assolutamente La roba Mi servirebbe Questo E cos'è Che mi manca Gli assi Di betulla Porca Non ci voleva Ah no Però posso fare così Fermi Posso fare così Fermi un attimo Posso fare così Ho gli assi Di betulla Per fare Lo scudo Lo scudo Che metterei Al posto Del letto E Lo scudo Quindi era con F E questo così Perfetto Quindi Stiamo già Un pochino Un lallero Meglio Devo Ok Questo mi serve così Questo qua Questo qua Mi serve questo qua Ok Perfetto Regà Sembra poco Ma guardate quanto Sto andato Spedito sto giro Porca miseria Stiamo Veramente Correndo Forte E non vi credete Che i tagli Che io stia facendo Sono così Importanti Ok Facciamo così Mi faccio comunque Una via di fuga Non mi interessa Tanto Se mi perdo O meno Regà Cioè non è Una cosa Che Mi può interessare O meno Qui Peccato Il ferro Lo prendo Il ferro L'oro Scusatemi Però Non è che ci serve Tantissimo Giusto per le mele D'oro Se Successivamente No Buonissimo Il ferro Allora qui Tutto chiuso Quindi Ce ne possiamo Tranquillamente Riandare via Allora ragazzi Ripeto Posso anche Perdermi Non me ne frega Niente Sto giro Ma veramente Niente Quindi mi sto Accingendo A scendere In maniera Un pochettino Più Spericolata Rispetto a prima Ok E stiamo Continuando La nostra Discezina Che però Secondo me Gira 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 Sta grotta È chiusa C'ho sto sentimento Non mi sembra Chiusa Qua sotto Non mi sembra Chiusa È un po' Madre Santissima Ragazzi È dove Mi sta portando Questo gioco Orca Miseria Raga Mamma Mia Che Intreccio Potentissimo Però Abbiamo Trovato Diamanti Porca Miseria Sì Speriamo Che è un bel Filone Raga Ok Ci sono Ragni Ah Mi sa che era Uno solo Potrei Impazzire Raga Un solo Diamante Mamma mia Questa puntata Ragazzi È gigante Ok Quindi Niente Brutta Storia Brutta Storia Non sto Trovando Neanche Il carbone Se è Per Quello Mi fai Attenzione Per l'amor Del cielo Stai calmo Bella Sta puntata Però mi piace Raga ripeto Completamente Al buio Raga Cioè Proprio Fermo Ok Ok Mi va bene Mi va bene No Non pensare A me Questa Interazione Non la sapevo Ok Ok Vamo Riammazzato Ok Ok Ragazzi Qui forse Abbiamo Trovato Qualcosa Di incredibile Io non so Se lo vedete Però abbiamo trovato Veramente Qualcosa Di incredibile Aspettate che Voglio vedere Se riesco A Alzare Un pochino La 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 Lasciamo perdere Sti dettagli L'unico Problema E ve Dico Sempre La mia E che Mi manca Il carbone Io adesso Sto senza Carbone Quindi Automaticamente Non ci vedo Una Beata Ceppa Di Niente Mi serve Assolutamente Del carbone Che non sto Trovando Io li sto Creando Del carbone A mano Cioè nel senso Che sto dando A fuoco Gli ultimi Alberi Che ho Sperando Che non sia Una cosa Sbagliata Ma io Qui Iiii Pensi che Non ti ho Visto No Non t'ho Visto E va bene Così Delle volte Purtroppo Non ci si può Fai niente Ed eccole qua Le nostre prime Torce Che ritornano Benissimo Raga Io Spero Che il video Vi sia piaciuto Lì Abbiamo Veramente Da trovare Un mondo di roba Al prossimo appuntamento A vostri 189 Il problema è che abbiamo finito il legno Vedremo Alla prossimo appuntamento